Queste sono emozioni, queste sono emozioni, queste sono emozioni, derby, 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 tre a zero, mamma mia, mamma mia non ci sto ancora a credere, che goduria, che goduria, grande Lazio, ma sei grande Lazio, sei grande Lazio, mamma mia, 3 a zero nel derby, mamma mia, finisce qua, Lazio 3, Roma 0, mamma mia ragazzi, mamma mia, una Lazio stupo, stupenda, stupenda sta Lazio, ecco lì che tavletta in ritardo, cori che cantano, l'arbitro fischia la fine, se forza Lazio, se tutti esultano, è bravo anche il mister Izzani, 3 a 0, 3 bambine, mamma mia, scusate ho spento il telefono, mamma mia ragazzi, mamma mia, quanto sono felice, stasera mi sono emozionato, la Lazio può anche deludere tantissimo, ma non c'è una squadra che ti fa emozionare come la Lazio, mamma mia, che partita, che partita è la Lazio, con lui Salberto e Lazzari, strepitosi, strepitosi, lui Salberto e Lazzari, strepitosi, strepitosi, mamma mia, mamma mia, Lazzari che fa addirittura due assist, lui Salberto doppietta, doppietta di Luiz Salberto, che giocatori, che giocatori ragazzi, mamma mia, quel gol di Ciruzzo al quattordicesimo su errore di Bagnez, ma Lazzari che partita ha fatto, ma non è Lazzari, Lazzari, no non ci sto, veramente stasera sono anche troppo emozionato per dire cose serie, domani farò un'analisi più approfondita che durerà 20 minuti, mamma mia ragazzi, mamma mia, che bella questa Lazio, che bella, mamma mia.